Nel Pescara c'è un principio di focolaio Covid, la conferma in serata dopo il comunicato diramato dalla società. Sei casi, cinque relativi accalciatori, uno allo staff, che non è il tecnico Gianluca Grassadogna, il quale continua ad avere febbre, ma anche oggi il tampone che lo riguarda è risultato negativo. Tra i positivi, oltre Macin, il cui nome era emerso già poco dopo la partita di Brescia, ci sono anche due giocatori scesi in campo titolari al Rigamonti. La squadra nel pomeriggio si era ritrovata all'appoggio, poco dopo aver effettuato i test molecolari e proprio in attesa degli esiti, i calciatori avevano svolto una seduta in forma individuale. Ovviamente Grassadogna non ha partecipato all'allenamento, restando in albergo. Queste le parole del direttore di microbiologia e virologia dell'ASD di Pescara, Paolo Fazzi, che anche oggi ha processato i tamponi del gruppo squadra del Pescara, intervenuto in serata a replay. Sì, in totale sono sei, cinque calciatori responsabili dello staff. Tre erano positivi già stamane, fra i tre c'era anche un giocatore già noto per la positività e oggi pomeriggio sono risultati positivi altri tre soggetti appunto appartenenti in parte alla squadra, in parte proprio allo staff. Ci siamo sentiti con lo staff medico e anche con il presidente e abbiamo deciso di andare a ritamponare il calciatore e lo staff mercoledì mattina. Già nella giornata di domani abbiamo deciso di tamponare ovviamente in maniera selezionata alcuni componenti lo staff, poche persone sicuramente. Il monitoraggio anche giornaliero in questi casi è fondamentale. Io ho parlato col presidente e i miei collaboratori ci siamo resi disponibili anche a tamponare il gruppo squadra anche quotidianamente. Oggettivamente il rischio di una evoluzione del focolaio, quindi di numeri più alti, sicuramente questo rischio ci può stare. Quindi diciamo tutelare la squadra significa non solo tutelare la squadra, tutelare anche una componente della società civile, perché insomma parliamo di un gruppo di 50 persone. A questo punto bisognerà vedere se il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Pescara deciderà di intervenire e con un proprio provvedimento di vietare allenamenti collettivi e la disputa della o delle prossime partite. In caso di mancato intervento della ASL, il club da protocollo può chiedere il rinvio della partita in caso di più di otto calciatori positivi. Un bonus da spendere una volta sola. Al momento, come detto, sono cinque, ma il rischio c'è di un aumento dei casi. Intanto è notizia di questa sera anche la risoluzione del contratto con il centrocampista Leandro Fernandez, che dunque non fa più parte della Rosa.